Un convegno dal titolo Insediamenti produttivi e sostenibilità, un tema attualissimo e un punto centrale per il futuro economico. Diversi gli interventi dei relatori per parlare del concetto di sostenibilità, che si può inquadrare in un discorso molto più ampio, ambientale, sociale ed economico. Ma la sostenibilità investe anche le infrastrutture ed è un rapporto tra resilienza, ambiente e costruzione. Il tema va affrontato anche sotto un aspetto socioculturale, un incontro organizzato dall'ordine dei commercialisti per parlare anche dell'importanza della sostenibilità sul nostro territorio. La sostenibilità è un concetto che oggi abbraccia ogni settore e quindi a maggior ragione anche le infrastrutture. Quindi la sostenibilità si riflette pure sulla programmazione e la realizzazione delle infrastrutture a partire da quelle strutturali, quindi viarie e ferroviarie, a quelle pasiaggistiche e idrauliche. Per cui è quanto mai attuale un incontro studio come quello di oggi organizzato dall'ordine dei commercialisti, proprio per affrontare questa tematica della sostenibilità che è diventato un po' il perno attorno al quale ruotano tutte le attività produttive. La giornata di oggi è una giornata davvero importante, innanzitutto perché anche nel nostro territorio si inizia a parlare di sostenibilità in modo più importante. Oggi nel 2025 quasi 8000 aziende saranno tenute al bilancio sostenibile. Essere sostenibili è anche un valore aggiunto per l'azienda. Essere sostenibili significa poter pagare con regolarità i propri fornitori, significa poter pagare con regolarità i propri dipendenti, significa essere sostenibili nel mercato. È un progetto ambizioso che intendiamo portare avanti grazie alla Regione Molise, al Ministero del Sviluppo Economico con cui stiamo facendo dei tavoli di concertazione. È un progetto importante perché non toglierebbe soltanto il traffico di merci all'interno del COSIB ma diciamo consentirebbe alle aziende di approvvigionarsi di materie prime e di spedire prodotti finiti sulla linea ferroviaria. Quindi si toglierebbe anche il traffico pesante proveniente dal COSIB sulle autostrade. La sostenibilità è senz'altro un punto centrale per il futuro economico, non solo economico di tutte le aziende. Oggi non bisogna più pensare all'attività economica solo come produzione, come conseguimento di un profitto di un utile. Ovvio che questo è insito in qualsiasi attività economica ma bisogna inserire nelle strategie diciamo che portano all'utile anche le strategie che salvaguardano la sostenibilità, ossia la sostenibilità in ambito ambientale, in ambito economico e così via. Può sembrare strano che ci sia la presenza degli avvocati in un convegno del genere e in realtà come qualsiasi cosa debba accadere soprattutto nel mondo dell'economia è sempre regolato da norme e con le norme sono gli avvocati che hanno a che fare, che spesso le scrivono e che spesso poi le debbono interpretare per renderle fruibile al sistema industriale.